popolo nero azzurro bentornati in questo nuovo video video veloce ragazzi per parlarvi del mio canale twitch come vi avevo accennato qualche giorno fa su una storia su instagram ho da tempo da qualche anno ma un paio d'anni aperto il mio canale orgoglio bauscia su twitch ma non l'avevo mai utilizzato fino ad oggi perché oggi alle 19 sarò online sul mio canale twitch per fare una live reaction per guardare insieme a voi la partita amichevole appunto con il salisburgo salisburgo inter la penultima credo amichevole prima del campionato è diciamo un format che poi vorrò rifare per il campionato quando avrò la possibilità di stare a casa lavoro permettendo di vedere le partite quindi guardarle insieme a voi lo faremo su twitch se siete interessati trovate i link sia su tik tok su youtube ma ripeto basta andare su twitch e scrivere orgoglio bauscia e lo trovate lo trovate subito quindi non c'è nessun non è difficoltoso trovare trovarmi anche su twitch sarà una prova generale insomma vedremo poi se questo format vi piacerà insomma se ci sarà la possibilità di fare live con una certa regoletà anche su twitch e poi insomma se la cosa diventerà diciamo importante nell'arco della stagione non mi aspetto di fare chissà quali numeri domani con la prima live su twitch visto che ripeto non l'ho mai utilizzato il canale quindi veramente agli albori però ecco magari se vi va di vedere insieme a me commentare al volo un po la partita domani dalle 19 appunto l'orario in cui ci sarà salisburgo inter sarò online su twitch quindi questo era quello che vi dovevo dire orgoglio bauscia su twitch vi aspetto per vedere insieme commentare insieme la penultima amichevole prima del campionato ci vediamo su twitch ciao ragazzi